Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale E si ragazzi, oggi torniamo con un altro episodio di Jurassic World Evolution 2 Ragazzi, dove ci avevamo lasciati lo scorso episodio che avevamo finito Per fortuna la campagna, come possiamo vedere, l'abbiamo completata al 100% ragazzi Quindi tante tante grossi scoop E quindi avevo detto di iniziare e di ricontinuare la modalità teoria del caos Dove andremo a riprendere le parti più belle dei film che sono usciti veramente di Jurassic Sia Jurassic Park che Jurassic World ragazzi Quindi andiamo a rivivere un po' insieme con questa teoria del caos I pezzoni dei film più belli di Jurassic Park e Jurassic World Ma prima di iniziare ragazzi vorrei salutare i ragazzacci che si sono venuti a far salutare sul mio Discord Ragazzi, che vi invito anche voi ad entrare sul mio Discord per partecipare a queste chicchette Oppure se volete essere salutati nei prossimi video Saluto Giuseppe, Lucchi Channel, Junior, Gixiepeppe00897, Francesco, Den, Vinci007, ModYouTube, Giovanni, SuperDJ2009DJ, SortiClapiu Questo è un nome strano Non lo so pronunciare, Alessio, salutiamo E basta, è Leo Ecco qua, ultimo ragazzo che non vedevo E tutti, ovviamente, tutti i ragazzi presenti nel mio Discord ufficiale fan Ragazzi, vi invito anche voi ad entrarci per partecipare a queste chicchette E molto alti in arrivo anche sul Discord Ma detto questo ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campagna per non perdervi mai nulla In descrizione tutti i link sono gratuiti ragazzi, spolliciate e condividete tutto questo qua Detto questo ragazzi, partiamo con la teoria del caos Avevamo iniziato a fare Jurassic Park Poi invece Jurassic Park San Diego, Isola 0B, Jurassic World e Ritorno su Isla Nublar Questi sono tutti pezzoni dei film ovviamente che sono usciti Qua uscirà, a quest'estate uscirà, mi sa, tra un mese e mezzo uscirà il nuovo film di Jurassic World Quindi molto bello anche con il protagonista di Guardiana della Galassia Non so, non mi ricordo come si chiama l'attore però, mi sfugge il nome però Ok ragazzi, torniamo a fare... Eeeh, vabbè Torniamo a fare... Dobbiamo un po', dobbiamo rifarlo purtroppo Bello però Il DNA Vabbè ragazzi, l'avevamo già vista questa, possiamo saltarla L'avevamo già visto, questa è la prima volta che avevamo provato la teoria del caos E l'avevamo provato, cioè già visto lo spezzone di questo filmato insomma Splendido, vero? Il Zanubar Bello però Dunque ragazzi, sul gioco di grafica è eccezionale Ma non so, boh, non mi ricordo cosa dovevamo fare qua Jurassic Park aprirà nei tempi previsti E il mondo tornerà a essere ciò che era Un posto meraviglioso Un posto dei dinosauri Ah, terra dei dinosauri, giusto è giusto Allora signori, eccoci qua, siamo... ci ha lasciato qua Ah bene, bene, vedo che ti stai ambientando No, non so dove sta Vorrei presentarti Dini Alford La direttrice delle operazioni qui nel parco Ok, abbiamo già un recinto Vabbè, vediamo cosa ci dice Dovremmo fare, ma noi già abbiamo il punto della situazione Comunque è bello ragazzi, guardate qua Allora, come il dottor Hammond a John vi ha già detto Intendiamo rendere Jurassic Park operativo e sicuro il prima possibile Stiamo facendo cose che erano ritenute letteralmente impossibili Va bene, andiamoci un'occhiata in giro Bello, bello il posto comunque Eh, mo, non esageriamo Ok, ci dice di costruire Centro visitatori e centro sviluppo scientifico Ok Mi lo voglio mettere qua Sì, sì, sì Sì, ma non me lo fa costruire Ah, spero, non è che mi dici dove... Eh, vatti Dove me... Qua me lo fa mettere, vabbè Se ci entra, eh Ok Costruiamo... Ok, raga, costruiamo quello che ci dice Vediamo un attimo Ok, questo mettiamo qua E... Vabbè, questo facciamo una via di mezzo qua Ok, tanto qua non ci dobbiamo mettere quell'altra struttura Qual era la... Centro sviluppo scientifico che va qua Oddio, ma non è che andava... Vabbè, forse abbiamo messo... Vabbè, non sti cazzi Ok Ah Tac, ragazzi Abbiamo costruito pure quei A meno Vediamo cosa dobbiamo fare Ricerca incubatrice Vabbè, facciamo Sicuramente lo conoscerai a breve Mostra la ricerca Dobbiamo ricercare l'incubatrice Questa, vai Che ci servono Abbiamo bisogno innanzitutto di un'incubatrice Vai Costruiscene una È un attimo Dammi tempo di fare la ricerca Di fargli studiare sti capoccioni, no? Ok, raga Andiamo a fare ricerca di incubatrice Perché sicuramente ci farà usare Questa... Già questo recinto che è stato costruito Sicuramente ci farà mettere l'incubatrice qui E sfornare i dinosauri Comunque, sicuramente Vabbè Comunque, vabbè, ragazzi Bello perché stiamo anche Ritornando nei panni inerenti al Jurassic Park Ci sono anche i protagonisti Proprio dei film Di Jurassic Park E questo è tanta, tanta Tanta roba, signori Ok Perfetto Quindi andiamo qua E costruiamo l'incubatrice E la dobbiamo mettere qua Vabbè, ma ci fa faggiatuto Ok Possiamo anche il recinto C'è noi il recinto là Facciamole bene le strade stavolta Che cazzo Eh? Raga, siamo ormai Ci siamo imbarati Ma Buongiorno, è bello perché Finiamo anche la teoria del caos E questo oggi dobbiamo finire La meno una In questo episodio In questo capire Dobbiamo bene perché Siamo che cazzo facciamo Per forza, capito? Siamo che cazzo stiamo a fare Ok Costruisci l'incubatrice operativa Ok, vabbè Dagli il tempo Fa La metti i chiodi Fagli qualcosa A questi operai Ok, costruisci ok Veloci Raptor Sintesizzo Un disegno Veloci Raptor Ok So che potresti avere Siamo calmi però Sia io che John Crediamo che siano Tra i candidati Più idonei All'operazione Dovrai sintetizzarne Le uova Usando la ricerca Sul genoma Ok Grazie Molto gentile Fammi avere i risultati Non appena Fammi avere Fammi avere Ok Dobbiamo sintetizzare Un incubo Un Sintetizza un dinosauro Il veloci raptor Dobbiamo Va bene Ci abbiamo il 55% Del DNA Quindi ragazzi Diciamo che non esce Proprio perfetto 55% del DNA Non è il 100% Non è il 90% Quindi Diciamo Vedi tutti questi Che abbiamo qui Sono Abbiamo il DNA Di 42 32 26 Però Del veloci raptor Che dobbiamo fare Il 55% Quindi diciamo che Probabilità caratteristiche Vedete Intollerante 75% Quindi diciamo che Può uscire Male Comunque Possiamo anche modificare Il genoma Ovviamente Però Possiamo dare il colore Della pelle Però più di quello Non possiamo fare Per il momento Quindi Vabbè Assegno a scienziati Vai questo qua Che è il più bravo E vediamo ragazzi 6 uova Tasso di sopravvivenza Prevista 67% Perché ragazzi Abbiamo poco DNA Abbiamo il 55% Quindi Non esce tanto Dimensioni lotto 6 uova Farà questo DNA Questo Questa Sintetizzazione Del dinosauro Tutte paroloni Proprio Vabbè Aspettiamo ragazzi Tanto 6 secondi E vediamo Questo è un bellissimo Esemplare ragazzi I velociraptor Poi di Jurassic Park Sopattuto T-rex Tutti questi erano Molto Aia Laboratorio Riferisce che La sintesi è fallita Nessun uovo È utilizzabile Ok Quindi Dobbiamo fare Scarta Scarta le uova Non è riuscita Ok Quindi Il che significa Che abbiamo Ampio margine Di miglioramento Ok Dobbiamo insistere Quindi che devo fare Ho individuato passaggi Nel processo di sintesi Che richiedono Ulteriori ricerche Ok ok Vediamo Vediamo Vedi cosa puoi scoprire Al centro sviluppo scientifico E fammi sapere Vabbè Stai calmo Ciccio Allora Andiamo alla Andiamo alla ricerca Ehm Dobbiamo cercare qua Forse Creazione dinosauro Potremmo provarci Vai Vediamo 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 ragazzi Se no Possiamo vedere pure questo Ehm Queste sono Modificazioni Gene Eh Potremmo anche Cercarlo Vediamo 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 che succede Stiamo facendo La sintetizzazione Migliorata Vediamo Andiamo avanti E vediamo Ragazzi E vediamo cosa ci Facciamo le ricerche Quindi studiano Forse avremo più possibilità Di Di sintetizzare Un uovo Abbiamo 6 uova Tutte fallite Ragazzi Perché non abbiamo Abbastanza Geoma E il dna Ok Proviamo Proviamo Di sintetizzare Di nuovo Il dinosauro Inizieremo davvero Con i raptor Non so se siamo pronti Segni a scienziati Questa è quella più brava Vai Ok raga Vediamo Abbiamo migliorato La struttura Anche le Le ricerche Laboratorie Vediamo Vediamo un po' Vediamo un po' Sempre 6 uova Andiamo avanti Proviamo a vedere Se qualcosa succede E certo Capisco benissimo Le sue paure John Hammond Ogni dinosauro Porta con sé Un certo rischio Ed è il nostro compito Ridurlo il più possibile Attenzione Sì vabbè ma Qui abbiamo Una grande notizia State zitti però Ragazzi 5 uova Sono andate buono Significa che abbiamo L'autorizzazione a procedere Sì Con grandissimo piacere Allora Abbiamo ragazzi Su 6 uova 5 sono andate bene Quindi dobbiamo Selezionare le uova E dobbiamo adesso Scegliere Quale Perché Guardate Dovete Se anche voi Gocate a questo gioco Se arrivate a questa cosa Dovete far bene Dovete controllare Le caratteristiche Perché non tutte le uova Ovviamente Vedete Allora Questo è Aggressivo 30 più di minaccia 15% Dominanza Quindi Domina chiunque Ci metti con lui Detesta E minaccia Tutte le altre specie Quindi non ci puoi mettere 30% di tasso Di recupero del vigore Queste uova qua Se noi andiamo a mettere questa Questo ragazzi è Limite di convinvenza Possibilità di attaccare Le squadre di guardiani Questo non lo possiamo mettere Questo Questo neanche E questo ragazzi Proprio no Quindi io direi di mettere Le due uova Che sono Che sono secondo me Buone Quindi vai E sviluppiamo E sviluppiamo Questi veloci raptor Che sono tra 5 uova Le due Sì sono aggressivi Però non troppo Anche con Gli altre specie Non li attaccano Ma soprattutto Con i guardiani Non li fanno niente Ragazzi Perché quell'altro L'associato Troppo cattivi erano Ma andiamo avanti Andiamo avanti Quindi ora dovrebbe uscire Il veloci raptor Quindi ragazzi Bello Bello Sì È una gabbia immensa Per i veloci raptor Abbiamo gabbia di livello 3 Quindi sono impossibili Da distruggere Sono anche Hanno più volti di corrente Ma sono più resistenti Perché i veloci raptor Comunque Allora mi sa che Hanno finito Vero Vai Libera Libera Allora sono belli Ragazzi Bellissimi 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 Ragazzi Bellissimi Vabbè Perfetto Abbiamo Li abbiamo liberati Adesso Sicuramente ci farà mettere Anche se il dottor V Ci ha rassicurato Le squadre di intervento Saranno in posizione Non sto dicendo Che qualcosa andrà storto Ma prevenire È meglio che curare Iniziamo con un posto di guardia Costruiscine uno Dentro il recinto Dei veloci raptor Calmi Allora un centro di risposta Allora centro di risposta Questo deve stare vicino qua Ok Mettiamo qua Questa squadra di guardiani Ma scusa ma si lo metto qua Che Secondo me Proprio più vicino Va bene Ok ragazzi Così come fuggisce Qui ci mandiamo subito i guardiani Intanto li ho messo a mangiare A meno Non si Non si nervosiscono Eh C'hanno già il cibo Oppure aspetta No no ma che cibo Gli ho messo Aspetta Loro gli piace una cattura Le prete Ok Eh si raga Lasciamo le prete Loro gli piace una cattura Le prete Non gli piace a Ok Allora Qua sta finito la benzina Perfetto Perfetto Rifornisci Fai il pieno Ok Allora i guardiani sono pronti Quindi Aggiungi attività No Eh No Devo cliccare la macchina Scusami Perdonami Aggiungi attività Qua Ok ragazzi Perfetto Ah boh Ormai queste cose Le sappiamo Sono di base Dai Assicuri Assicuri che Abbiano Ah si Dobbiamo dare Dobbiamo dare il comfort Comfort 85% Eh ma non c'hanno l'acqua Però Eh aspetta Ricorda che si stanno ancora Abituando Alla loro nuova casa Non c'hanno l'acqua Però Ok Mo' ce l'hanno Cibo acqua Vigore salute Ha bisogno di acqua Eh lì l'ho messa l'acqua Quanto acqua c'hanno bisogno Ancora di acqua Mi la mettiamo L'altro po' Quando c'hanno 85% di comfort Ma hanno bisogno di acqua Ma Porco dici Che dove mette Un mare Le devo mettere Le cascate Le devo mettere Cioè ma Quando acqua c'hanno bisogno Sono Sono piccolini Quando cazzo di acqua C'hanno bisogno Oh Perfetto Cioè Sono così Vogliono Vogliono il mare Vogliono I ritrotti Tridi di acqua Ma cazzo si dice Ok raga Però ce l'abbiamo fatto Ormai Ormai noi Con i comfort Dei dinosauri Siamo il top Ok ragazzi Quindi diciamo che Abbiamo Ce l'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatto Ha fatto 6 missioni Marco non può offrire Educazione E intrattenimento Se i visitatori Non riescono a vedere I dinosauri C'hai ragione pure tu Ammirare da vicino Questi maestosi animali Non è forse il senso E mo ci mettiamo Una galleria panoramica Su Su Maronami Oddio Oddio Non chiederanno gli oriocchi Ma la mettiamo Cioè abbiamo 26 miliardi di dollari Siamo preoccupati a farci una struttura Che costa 200.000 Inestimabili Inestimabili A un prezzo Ragionevole Eh sì Vedo che inizi a capire Ok dai Allora assicurati che Cioè Abbiamo 26 miliardi di dollari Siamo pensati Di 38 mila euro Di merda Dai Allora Una qua Ne mettiamo E un'altra Tra Metto anche di qua Così almeno i visitatori Possono Oddio i visitatori Almeno possono vedere L'istruttura Allora E Qua facciamo una cosa Così a me doveva pulsi Alberi di merda qua Cioè guarda qua Avete Ho messe le due posizioni Strategiche Signori Abbiamo messo le due gallerie panoramica Strategiche Che cazzo Ok Qua Ho messe due A meno ci hanno le visitate Tutte e due le parti A Ricerca Di visitatori Ah ok Dobbiamo ricercare Quindi Ricerca Dobbiamo costruire Una struttura paleomedica In grado di occuparsi Dei dinosauri malati O feriti Costruisce una struttura paleomedica Ma non ce l'abbiamo Vero I dinosauri Godano di ottima salute Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Dove la metto questa Questa possiamo metterla qua Però Io voglio Io voglio tutto il Diciamo Lo spazio possibile Perché abbiamo Qua secondo me ci fa costruire Tante strutture Mettiamo anche un altro Generatore Di corrente Allora Ah abbiamo fatto di qua La strada Va bene Non fa niente Ok Struiamo questo qua E costruisce Uno strutture Lo strutture Il palermo è funzionante Ok va bene Ora stiamo a costruire Ho messo anche Un altro generatore Perché tutte queste strutture A parte che ho visto Che possiamo mettere Anche un'altra cosa Possiamo mettere Anche i pali E questo non è male I pali della luce Che ottiene eccesso Possiamo Vabbè ma no Non ci serve Però Potremmo anche ricercare I pali della luce E potremmo fare Anche cose strane Costruisci Una strutture Di centro spedizioni Funzionante Ho bisogno di più Campioni genetici Rispetto a quelli Che abbiamo qui al parco Centro spedizioni Possiamo inviare Delle spedizioni Per recuperare fossili Ma ciò che ci serve Davvero È la costruzione Di un centro spedizioni Poi potremo Estrarre il DNA Dai fossili Recuperati sul campo E ricostruire Nuove sequenze Di genoma Di dinosauro Deve essere Una nostra priorità Certo Certo Dammi tempo Giovane ragazzi Te lo sto a costruirmi Dai tempo Allora Aumenta il geoma D'esemplare Di triceratopo Quindi ok Dobbiamo aumentare Vediamo un attimo qua Il triceratopo Che sarebbe questo Noi abbiamo il 26% Del genoma Lo dobbiamo Portare almeno A Come ha detto Al 50% Non sarà facile Però Con questo centro di spedizioni Mandiamo le squadre Sui luoghi Di tutto il mondo A cercare fossili Di triceratopo Quindi più fossili abbiamo Più riusciamo a estrarre il DNA E più Se abbiamo anche Cosa è ancora meglio Se abbiamo le anfore È ancora meglio Perché Se sono qualche zazzata Abbiamo più DNA Insomma Quindi Allora adesso Mappa e spedizioni Ragazzi possiamo mandarli In tutto il mondo Vedete Abbiamo i lucchetti Un po' bloccati Ma li possiamo mandare Un po' In tutto il mondo Allora Questo è Veloci raptor No Veloci raptor No 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 Triceratopo Non c'è È stato avvistato Un triceratopo Eccolo qua Triceratopo Ok Andiamo qua Ci mandiamo Questa che è più brava Ragazzi Che dobbiamo fare Ok Mandiamoci questa E questa andrà Sicuramente lì Al Al luogo Dove hanno Scoperto altri fossili Di triceratopo E andrà a estrarre Più campioni DNA Però possiamo andare Avanti Ovviamente Perché ci metterà un po' Tempo Andare lì Posata Con il martellino A fare quelle scopette Quelle cucine Cerca Oddio il fossile Capito Quindi ci metterà un po' Di tempo Noi mandiamo avanti Intanto controlliamo Che comunque il parco Ragazzi Da partire un cazzo Guardate quanta cazza Di roba abbiamo Sì è vero che già C'eravamo qualcosa Di prestallato Però Comunque Guardate qua Abbiamo fatto Abbiamo fatto tanto Qualche visitatore Non so se c'è già Ma non penso Ok ragazzi Qualcosa è successo Spedizione Schermata dei fossili Quindi Col tab Qualcosa è successo Ah Vedete Abbiamo raccolto Tutti questi Allora questo Ci fa avanzare Del 26% Questo più 24 Più 36 Allora facciamo una cosa Questa togliamo Questo ci fa andare Dobbiamo scegliere 16% Più 30% Va bene Proviamo Assegna scienziati Vai Va bene pure tu Vai E ragazzi Vediamo Stanno estraendo Ovviamente ragazzi Ci possiamo Anche rivendere Tipo questo Questo non so Che cos'è Fossili di Angiosperma Non so che cos'è Sarà Non lo so Sarà un pesce Non lo so Non lo so Qualc'insetto Non lo so Comunque Vabbè Siamo Siamo Stanno estrarre Il dna Ma andiamo avanti E vediamo Un attimo Cosa Cosa succede Ragazzi Siamo al 26% Col 30 Ci siamo quasi Secondo me 30 46 Siamo lì Siamo lì Poi ovviamente Possiamo Con quelli che abbiamo trovato Possiamo sempre continuare Ok Cura ragazzi Abbiamo arrivato al 50% Allora Sintetizzi E incubo A risonare A risonare A risonare A risonare A risonare Voglio osservare Il comportamento Di questi animali Allora Lo facciamo qua Ragazzi Quasi in natura Lo facciamo qua Ah ma abbiamo Ricinzione 2 Vabbè Tricerato PC Va bene Allora Facciamo qua Ci serve Ci serve Spazio Dove Se facciamo Dobbiamo rilasciare I Triceratopi Ok Allora Mettiamoci un cancello Lo mettiamo proprio Qua all'inizio Mo ci dobbiamo Mettere un altro Generatore Però Lo mettiamo Proprio Ma se lo metto Qua in mezzo C'è ragazzi C'è ragazzi A me Art Attack E Tetris Mi fanno una beffa Ok Così Così si costruisce Anche il recinto E dobbiamo Metterci Incubatrice La mettiamo Questa è grande La possiamo Mettere No Possiamo Metterla Qua Ci facciamo La strada Della Madasca Eh Questa strada Ragazzi Può servire Anche per Future Costruzioni Ok Costruiamo Costruiamo Questo E poi Raga Aspettiamo Che finisce A costruire Tutto E si Inziamo Questi due Tricerato Assicuro che C'è Sulla sicurezza Ok Abbiamo costruito Per forza Per forza Che dobbiamo Fa Ok Allora Sintetizza Un dinosauro Il tricerat 57% Eh Vediamo un po' Se possiamo Modificare Il genoma Però Aspettate Ma io Prima di Sintetizzare Scusa Scusami Ci avevamo Gli altri Scusa Scusatemi Scusami Ci avevamo Altri fossili Che avevamo preso No Eh scusa Questo più 6 Vai Assegna scienziati Scusate Sviluppiamo No Abbiamo altri fossili Scusa Cerchiamo più Più DNA Più DNA possibile No Questo ce la vendiamo Però Eh scusa A me no I 40.000 dollari Anche delle spese Sono rientrate Eh raga Scusate Abbiamo preso più fossili C'è Dobbiamo fruttare Le spedizioni Che facciamo E anche voi Aia Anche voi Dovete sfruttarle Tutte le cose che facete Che facete però Ma che fate Insomma Quindi Che facete Molto bello Quindi Questa parte che sono erbivori Quindi Ok raga Estrazione è andata a buon fine Quindi Avremo più Proviamo a vedere Sintonizzare Abbiamo Eh abbiamo il 75% Cioè avete capito Non abbiamo Cioè Quindi È un bellissimo esemplare Vediamo se possiamo modificare il genoma Con più possibilità Ah possiamo solo mettere il colore della pelle E basta Non abbiamo nient'altro Vabbè Andiamo avanti Assegna scienziati Vai Questa è molto più brava Vai Ragazzi Proviamo Andiamo avanti E vediamo Ragazzi 75% Abbiamo adesso Tasto di sopravvivenza previsto 58 Diciamo che Meglio Di niente Insomma Raga 4 uova Si sono Selezionare uova E selezioniamo Questo Più Più Meno 30 Attacco No Allora No Docile Ok ragazzi Queste due vanno bene Questi invece Vedi sono Quando hanno il segno del pericolo No Quindi Assegna scienziati E Vabbè Che è successo Vai Poi ragazzi facciamo riposarli In attimo scienziati Che Già ho visto che si stanno ingazzati Ok ma andiamo avanti ragazzi E Così sviluppano anche questi dinosauri Così abbiamo anche Sia carnivori Che erbivori Questi ragazzi sono esemplari bellissimi Poi mandiamo anche qua A controllare qui Questi qua sono erbivori Qui secondo me Dobbiamo mettere qualche bacca Qualcosa Perché non penso che Che amano molto Diciamo Gli alberi Gli alberi sono per altri tipi di specie di dinosauri Ok ma andiamo avanti Quasi completata l'incubatrice Perfetto Allora Libera Ragazzi guardate E godetevi questi altri bellissimi esemplari Bellissimi 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 veramente Ragazzi 75% del DNA Si Qualche cosa l'avranno Non è mai come il 100% Però Ragazzi Tanta roba Signori Allora Assicurati che sono in sicurezza Vabbè ma penso si Sicurezza di questo Allora Dobbiamo Far riposare un po' il personale Quindi Personale Qual è questo? Diciamo riposare Opzioni personali No Che licenze Ah perché non c'è il centro del personale Aspetta No abbiamo fatto il centro del personale Dobbiamo ricercarla Ricerca centro personale Con così tanti Guardiani dove siete? Dove cazzo stanno i guardiani? Ah eccoli qua Dai muovete che mi serve a me Andiamo Bella la macchina di Jurassic Park però Dai andiamo dall'altra parte Dobbiamo controllare No no Ah controlliamo un attimo Ragazzi stanno Dove stanno i dinasauri? Ok perfetto Allora abbiamo controllati Quindi ci hanno bisogno di fibre basse Eh ma quando ce l'hanno bisogno di fibre basse Scusatemi Fibre Ah c'hanno un bel po' di fibre Questo In caso lo puoi Ah io tutti e due tipi li ho messi di fibre C'è ragazzi 100% di comfort Signori ma di che cosa stiamo parlando? C'è ormai veramente ragazzi Ormai C'è ormai Come Come diamo il comfort noi Agli animali Ai dinosauri Non lo facciamo nessuno Quello Non va dal 92% Questo 100% C'è c'hanno fibre Alberi Acqua Terreno Tutto hanno Tutto hanno Questi besti exemplari Ok che dobbiamo fare? Aumenta il numero di specie di dinosauri Ci hanno chiesto di aumentare la varietà di specie animali nel parco E poi Costruire un'attrazione che permetta di vederli tutti Crea qualcosa di sorprendente Come che si crea qualcosa di Per vederli tutti Allora intanto facciamo una cosa Mettiamo La galleria panoramica La mettiamo Mettiamo qua comunque Ah forse ho capito Attrazioni Tour del parco Forse Piattaforma panoramica E attrazioni per i visitatori Che questo comunque dovremmo fare Aumenta il numero di specie di dinosauri Quindi se Costruisci un tour Assicuri che un numero sufficiente di dinosauri Visibile a tutto Quindi 5 in totale Non abbiamo avere Ma non abbiamo 4 Eh vabbè Quindi facciamo 1 e 1 Possiamo sempre farlo Allora No lo facciamo Però io voglio fare una cosa Prima raga Sennò qua il personale è scontento Allora Questo è il personale Perché sennò dopo Mi si Mi si stancano Sti poracci Capito È giusto pure che si riposano Ok Vabbè raga Questi sono altri obiettivi Che dobbiamo fare Quindi Sperando però Ah raga Sennò che dobbiamo fare Chiamoci un altro generatore Va Che esso i generatori Qua cominciano Cominciano a richiedere un altro Un altro uno in più Almeno più corrente Anche per le gabbie Eccetera eccetera Ok Dobbiamo un po' Mo 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 facciamo Facciamo riposare Anche un po' Vai riposati Riposati caro Vai riposati pure tu A meno facciamo riposare Un po' il personale Visto che comunque Se ne sono meritati Allora ragazzi Perfetto Allora qua possiamo fare però Possiamo sintetizzare Un uovo Io non so però Io Siccome noi adesso Però siamo Abbiamo la squadra Di cattura Delle Degli interi fossili Di tutto il mondo Quindi C'è pure l'Italia Signori ma Genoma Canada Questo è un po' Più per il b Eh Tricerato Poi abbiamo anche Un'altra cosa Che dobbiamo pure mandare Però Mo noi I due esemplari Che abbiamo Sono ovviamente Veloci raptor Quindi Io ragazzi direi Di fargli andare Proprio qui Vai Andate a catturare Altri Altri fossili Ragazzi Ma andiamo A meno Abbiamo anche più DNA del veloci raptor Perché questi due Che abbiamo rilasciato Diciamo Non sono proprio perfetti Hanno qualche difetto Tipo questi qua Abbiamo del 75% Ma lo possiamo anche Migliorare in più Però ragazzi Le spedizioni costano I soldi finiscono Quindi diciamo che Dobbiamo anche fare qualche E intanto Facciamo una cosa Mandiamo le ricerche Facciamo le ricerche Anche Delle strutture Ma invece di farlo qua Possiamo fare direttamente qua Per poter costruire Queste strutture Sì ma io voglio fare Un tour del parco Ma tour del parco Poi non so come funziona Però Allora intanto Facciamo attrazione Per i visitatori Ah ok Dobbiamo un attimo Siamo occupati Va bene Va bene Costituisce un tour Del parco Però vedi Dobbiamo costruire un tour Quindi per forza Dobbiamo costruire Per fare la missione Insomma Va bene ragazzi Io direi che possiamo Salvare qua Ragazzi Possiamo salvare qua Possiamo dare Una bella salvatina Ha salvato Salva Ok ragazzi Bella salvatina Noi possiamo tornare Al nostro Menù principale Perché Però mai ci possiamo Fermare qui Con la Toria del Caos Stiamo riprendendo Il film di Jurassic Park Anche le macchine Un po' tutto quanto Siamo all'11% Anche della Toria del Caos Ragazzi Tanta roba Poi andremo a vedere Anche qualche DLC Interessante Che sono Sono usciti Un po' Ehm Questo Sono usciti Questo nuovo Pacchetto di dinosauri Campo Cratececo Crat Cretaceo Cretaceo E' una E' una sorta di Di Ehm Storia di dinosauri E vedi Viene Viene ispirata Una serie di Netflix Jurassic World Nuove avventure Negli studi Universal Vabbè Sono nuove cose Che andremo a vedere Qualche DLC Ragazzi Andremo anche a acquistare Per arricchire Sempre di più Anche questo Jurassic World Lushon 2 Ragazzi Per arricchire Poi Ragazzi Una volta Filtratero del caos Andiamo a fare La nostra sandbox Con tranquillità E lì vi voglio anche a voi Perché dovremmo fare Scegliere o Jurassic Park O Jurassic World Scegliere che tipo di parco Vogliamo fare Quindi Ragazzi Detto questo Grazie ancora di essere con me Spero che questo video Sia piaciuto ragazzi Grazie ancora mille Per il supportazzo Che mi state dando Ragazzi In descrizione tutti i link Sono gratuiti Non mi raccomando Spolliciate in su ragazzi Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi mai nulla E noi ragazzi Becchiamo nei posti di video E like qui sul mio canale O sul tube viola Che ovviamente troverete Sotto in descrizione ragazzi Detto questo ragazzi Grazie ancora Domani ci vedremo Sempre qui Con un nuovo episodio Della rubrica Dove parliamo Delle uscite Di videogiochi Di molte notizie Sul mio sito Xpazx.it C'è una notizia Incredibile Quindi rimane Sì salitati qui Detto questo ragazzi Vagabaccio E buon fin settimana Tutti ciao tutti